Ecco certamente un uomo superbamente coraggioso e odace. Se noi fossimo stati finiderma, ci avrebbe dun colpo falciati con la sua spada. Ma ad onde riesci? Dal brugatorio o dall'inferno? Con quale salsa cucineremo la sua carne ranzida? Guarda che indifferenza! Dicci cosa vuoi! Non farai l'onore di rispondere a noi ladroni che siamo signori? To, per la tua faccia d'imbecille! To, che ti renderà la lingua più sciolta! Bisogna finirla! Svenatelo, bruciatelo, impiccatelo! Allontanatemi il turbamento che mi procura il suo sguardo! Fate presto! Bello, bello, è un seguro! Dimmi che mi procura il suo sguardo... Pinti la lingua più sciolta! Vile, allo, iniziamoci! Vile, allo, iniziamoci! Questa, 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 che, 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 che... A presto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.